Siamo arrivati a Sardegna, un'ultima durata, secondo me c'è una metastica che ha una pressa, anche da noi, e da noi abbiamo trovato un sentito che abbiamo messo, ma anche da noi abbiamo messo, il vero è il terzo sguardo con i paletti di polizia, un attore che non ha mai parlato, tra i comuni che sono razzisti, non si marta, devi farlo in un'altra parte di polizia, con l'intervento, non voglio farlo, non voglio farlo in un'altra parte, non voglio farlo, Grazie. Siamo messiati a un po' più che c'è capito che è emozionale. C'è tante persone che cerchiamo di far parlare di conneranza. Stiamo capendo. E' interessante. E' un po'. Anche abbiamo già, mi muitasi e c'è un po' così. E' un po' così... Oltre a chiarirlo che se... E' un po' stavolta dapposito. E' un po' di più, è un po' di più. E anche a me, c'è un po' di più. Che giocano in basso. E questa cosa per i pegani sono tutti quelli che facciam? Che accettano cose di pagare. Che ovviamente diciamo che sia determinato il senso che di un po' di più e di più stridolato dalla competizione globale che vengono date a condizioni che magari non si sognano niente, non si sognano mai sull'età. I becchini, lascio cavalli morti, non si vuole fare più nessuno, non si vuole fare una barra. A presto, non si vuole fare più alcuna. È un po' diima, in quanto venne la carta del mare. Per quanto venne, non si vuole fare più fortale, non si vuole fare più alcuni. La sigla. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.